ma pietro oh io l'hai fatto mi passava l'autobus mi raccomando sei di uno che non si fida delle persone che non conosce ma l'ho convinto che però fa me fa bella figura a proposito come dà la capi con il cortello? abbastanza bene perché? chi è il primo? io senta che mi fa due euro di pizza che patate? due euro precise due euro a bimbi del re ma che sta a fare un'operazione chirurgica? è il 79 senta mi dà un pezzo con i funghi non il bordo che l'ho fatta è sempre un po' bruciato guardi eviti anche la parte centrale che non la vedo molto cotta poi non la digeriscono anzi guardi me la dia con le zucchine sì che è meglio e purché non sia sciapa come l'altro giorno che fa? va bene anche la margherita questo è il coltello se la tagli da solo ma come io credo grazie a tutti grazie a tutti